cari amici benvenuti ad un nuovo podcast e ora parliamo di uno dei problemi più attanaglianti che si presentano in questo periodo epidemico ovvero il discorso delle varianti ecco noi abbiamo visto come ci sia il covi 19 ma non possiamo più parlare nemmeno adesso di covi 19 dovremmo parlare di covi di covi 20 o meglio parlare dei nuovi nomi che si chiamano per esempio b 1.1.7 che per esempio la variante inglese del covi quindi come ho detto in altre in altre mie comunicazioni c'è una ragione per cui il virus ci sono varie ragioni per cui il virus muta uno perché è insito nei virus rna con questa struttura più fragile più debole rispetto ai virus dna come i virus dell'herpes rimangono difficilmente mutano però tutti i virus rna hanno questa 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 grande tendenza alla mutazione che rende estremamente difficile trovare un vaccino efficace per lungo tempo e che li rende anche così patogeni per per l'organismo e in particolare i coronavirus hanno una alta tendenza alla mutazione e il covi 19 ha dimostrato anche lui di essere un virus velocemente mutante io ho già fatto una mia comunicazione precedente in cui spiegavo l'importanza e questi discorsi che faccio li faccio perché me li sogno di notte in base a lavori sperimentali l'importanza che ha e perché muta un virus molto spesso muta perché si trova in un organismo che essendo immunodepresso fa sì che il virus si riproduca in maniera vorticosa e nella riproduzione vorticosa avvengono anche le mutazioni quindi cosa si può dire si può dire che ragionando a livello planetario se noi per ipotesi attivassimo il sistema immunitario in tutto il pianeta in ogni persona avesse si stimolasse il punto di vista immunitario per esempio ho portato recentemente l'esempio che basterebbe per esempio somministrare del selenio alla popolazione sotto forma o di cipolle o di aglio di patate al selenio comunque del selenio in microgrammi e già questo apporterebbe a un innalzamento del sistema immunitario tale da specificatamente antagonizzare queste mutazioni questo è un concetto però fatto sta questo non si può fare e quindi noi troviamo moltissime mutazioni io leggendo quello che leggo vedo già che ci sono mutazioni molto importanti in sudafrica c'è la mutazione sudafricana la mutazione inglese la mutazione del bozzana la mutazione francese australiana tedesca svizzera e giapponese queste sono alcune delle ultime mutazioni che ci sono che ci preoccupano in particolare poi per non parlare del fatto che se andiamo a guardare la se andiamo a guardare più più profondamente ci sono poi altre mutazioni che sembrano esserci verificate in altri paesi dalla danimarca tailandia eccetera eccetera quindi per il problema che ci preoccupa che preoccupa diremmo gli scienziati per questo concetto della della mutazione ma quello che ci preoccupa è il fatto che i vaccini diremmo no che stanno adesso andando per la maggiore no questi vaccini il moderno il pizzer e così via che sono vaccini innovativi interessanti che però nascono non come vaccini come spiegava oggi un un amico del del san raffaele sono vaccini che nascono in realtà come come farmaci per il cancro che poi sono stati utilizzati in gran corsa per antagonizzare il virus ecco questi vaccini chiamiamoli vaccini si indirizzano sulle spike proteins del del virus ovvero sulle proteine della 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 membrana del virus le proteine dell'imbolucro del virus che sono quelle che poi si attaccano ai recettori della cellula che poi permettono al virus di entrare nella cellula e bene proprio queste spike proteins sono quelle che mutano rapidamente e lì che avviene la mutazione quindi capite bene che il che fare dei vaccini indirizzate le spike proteins che possono proprio quelle che mutano porterà probabilmente dei vaccini che difficilmente avranno un potere di eradicare malattia ovvero eradicheranno quella fase ma poi arriverà subito dopo la fare la 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 variante del bozzana la variante brasiliana eccetera eccetera ci troveremo di nuovo appunto di prima e allora ci sarà bisogno di un altro di un'altra iniezione di vaccini che come sta già pensando di fare la moderna e andremo a rincorrere le mutazioni perché si può benissimo fare però dovremmo fare 1 2 vaccini all'anno per rincorrere le mutazioni che arrivano quindi ci troveremo nella stessa situazione in cui ci troviamo con l'influenza quindi ogni anno abbiamo da fare un vaccino anti influenzale con tre ceppi virali dentro e tutti di corsa a seguire e a rincorrere questo fatto quindi ci si chiede in ambito scientifico ci si chiede soprattutto in india che è un grande paese faccio presente all'avanguardia perché l'india paese che mi piace molto e guarda basta guardare i tassi di mortalità ridottissimi che hanno nel nei loro casi di covid anche ricoverati a livello ospedaliero dicevo che che ci si chiede in idia ci si chiede in cina ci si chiede in tanti paesi se per caso non sia più opportuno un vaccino fatto col col virus che invece un vaccino fatto con le spike proteins del virus quindi si tratta di dire che probabilmente non lo dico io lo dicono gli scienziati che probabilmente lavorare con un virus inattivato per esempio cosa dico dal punto di vista tecnico preparatorio più complesso e lavorare con con un virus inattivato è certamente probabilmente da un vaccino che agisce in maniera più completa perché chiaramente c'è maggior possibilità di uno stimolo immunitario che copra un pochino più anche le varianti lavorando con un virus nella sua completezza rispetto a dare una sequela di di rna unicamente che va alla sua spike properties questo quindi il mio messaggio che io non faccio altro che riportare naturalmente quello che leggo sui giornali scientifici è quello di ecco attenzione quindi non crediamo che tutto sia risolto col vaccino moderna o col vaccino Pfizer ma guardiamo con attenzione questi vaccini che portano avanti il concetto dell'uso del virus inattivato nel vaccino che sono mi sembrano estremamente interessanti che dobbiamo guardare come prospettiva terapeutica di grande utilità arrivederci al prossimo podcast grazie a tutti